Un progetto per avviare i propri alunni all'atletica leggera è l'obiettivo che intende realizzare l'istituto comprensivo Gera e Butera scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei diretto da Agata Gueli la scuola affilerà alla FIDA, la Federazione Italiana Atletica Leggera il proprio centro sportivo Mattei Sport come soddorizio per la partecipazione ai campionati federali e dalla prossima settimana la scuola media Enrico Mattei inizierà tutto un progetto legato all'atletica leggera non che non sia stata fatta negli anni precedenti però quest'anno c'è una novità in più in quanto i nostri ragazzi parteciperanno a delle fasi agonistiche provinciali, regionali e speriamo anche nazionali tutto questo nasce dall'impulso di un professore di educazione fisica il professore Di Vara che credo sia abbastanza conosciuto nell'ambito del territorio gelese che crede in maniera straordinaria come del resto tutta la scuola e la mia dirigenza all'attività motoria che è un volano straordinario perché i nostri ragazzi possano crescere consapevoli di essere cittadini che debbano rispettare delle regole Peppe Di Vara, docente di atletica leggera e coordinatore del progetto Siamo l'unica realtà nel meridione da Roma in giù che crede nell'atletica leggera e soprattutto riesce a portare la scuola noi abbiamo una moria di talenti che non riusciamo più a reclutare per cui come tecnico ma adesso anche come docente di questo istituto siamo riusciti grazie alla sensibilità della dirigente a portare avanti questo progetto che è l'atletica leggera nella scuola quindi fare attività sportiva, insegnare le regole tramite lo sport e cominciare anche a coalizzarci, a relazionarci con chi fa l'atletica sul serio quindi con chi la fa a livello agonistico partiremo già fin da subito con la seconda fase dei campionati di colse campestre che si terranno a Piazza Merina e da lì poi uscirà fuori tutto il programma primaverile quindi ad aprile in poi ci saranno le gare su pista e là avremo la possibilità di fare partecipare molti ragazzi in tutte le discipline, dagli ostacoli alla velocità, alla resistenza, ai salti e ai lanci soprattutto anche ai lanci quindi una specialità per tutti e non solo per chi sa solo correre o chi sa solo saltare quindi l'atletica è la regina degli sport e quindi perché non a scuola La scuola Enrico Mattei opera al centro della città di Gela dove i ragazzi non hanno spazi a disposizione per l'attività sportiva l'intento dunque è realizzare un centro dove possono avere un riferimento certo per l'aggregazione e la crescita umana e sportiva